15 ottobre 2020, appena entrati nel Bosco Siamo a bordo strada Guardate che bellezza Alcuni sono un po' appassati perché ha piovuto Questi li secchiamo Avevo visto da queste parti un bocciolo fantastico Vedi, infatti, ecco qua Bellissimo questo E vediamo Vabbè, ha piovuto in questi giorni, forse anche stanotte Questo è bello però, almeno sembra Signori, purtroppo piove I funghi sono tutti molto umidi, per non dire fragichi Però qualcosa è ancora asciutto E c'è qualche pagiocco che sta ancora crescendo Beh, una delle amanite che ho nascosto l'ho trovata Signori, tracce di passaggio dell'uomo Purtroppo, i soliti cercatori di funghi Dell'ultima ora Vedete Funghi Staccati Ma soprattutto questi mi chiedo come non hanno fatto a vedere questi qui È vero, i funghi In questo momento sono molto bagnati Quindi, certo non sono super pregiati come il solito Però, non puoi non vedere questi a questa distanza Attraverso Allora comunque tutto sommato è andato bene anche oggi